ah si si lo sto registrando ok scusate sono io che laggo ok si si sono ufficialmente io che vabbè ragazzi benvenuti in questo nuovo video su una reazione ai miei video però con qualcosa di diverso questa volta si ragazzi forse alcuni di voi proprio più intelligenti avranno già capito di cosa sto parlando a parte che l'avrò sicuramente scritto sul titolo quindi anche vabbè comunque se io vado qui se io vado se io vado qui ed attivo i sottotitoli questo video se non l'avete visto guardatevelo subito avvisare tu appena lentisco due video che è partito così ho un po di camera così in cam sa comunque appena le di scavo due video che usciranno sul canale video non sto prestando a pasqua ok non è vero sto registrando oggi che lui sarebbe cioè oggi il martedì prima che gli stia alla scuola ma quando lo fa però braccio a comunque facciamo il risotto cosa il mondo di corsa in cui personaggi vabbè comunque mi devo comprare un personaggio e sulla quasi arrivato comunque se notate suo riuscito a per mettermi dunke kang ok vediamo la parte finale del video quella in cui sblocco hotel cosa la vabbè la capendo niente neanche io scusate guarda l'idea ragazzi ce l'ho fatta sì ce l'ho fatta un anno dopo un ottimo trovare poi possiamo partire partire faccia una cosa partiamo ma ok ragazzi ecco perché i sottotitoli di youtube non dovrebbero esistere ora mettiamo questo video di do you know the way aspettiamo che parte a qui c'è il simbolo di coso di ricerche però pur dio che metti non li metto i sottotitoli pur dio metti i sottotitoli vediamo in spagnolo vediamo vediamo perché il video mi vuole mettere i sottotitoli spagnolo toc 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 come su nasce una sonna sono le buscando è narcos no è narcos hasta algún postino tenga como si lo vi che cosa significa tutto questo y esar tu conoscesse l'avion tu conoscesse la via la che cosa è tutta questa qua sarebbe bellissimo poi invece vediamo mettiamo l'intervista tripla in che lingua me lo metterai l'intervista tripla spagnolo pure a te no hai le porte io non posso metterli in italiano scusate sotto titoli li posso metterli in italiano scusate io non ci capisco niente spagnolo no hai dei sport e iso ma non possiamo mettere un video con i sottotitoli aspetta vediamo un attimo lo so gli spinner magari a questo cambia qualcosa comunque direi decisamente un minuto e 18 secondi scusate nei commenti chi capisce chi capisce la la liste la citazione comunque raga vorrei un attimo aspettate lo faccio taglio un attimo che se no faccio eccomi qui ragazzi sono con l'account di castori qua c'è tutti i cosi belli ma vorrei vedere per esempio questo episodio qui questo video qui no raga mi scocciavo di cercarlo perché sotto titoli ci sono già vediamo invece a dove è per lì musica poi su parte di conoscerlo al massimo sino ma potete mettermi almeno ad un video almeno ad un video di mettere i sottotitoli in italiano ah no 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 mi scocciavo ah no no mi scocciavo la bugia che mi ma cazzo di diritto è per quanto vediamo qua le mie avventure stupo o bella vediamoci almeno il canale spagnolo anche questo sottotitoli spagnolo ovviamente non potevamo mancare solo tu amico vabbè ragazzi sarà per un altro video se volete un altro video del genere tipo se volete una prova a non ridere ditemelo mandatemi i video nei commenti e poi boh basta quindi se il video vi è piaciuto bla 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 sempre le solite cose che dicono tutti in tutti i video quindi non mi metto a dirle anch'io ciao ragazzi e quindi per questo video è tutto fate quello che vi dice l'immagine iscrivetevi e lasciate like e quindi per questo video è tutto da me e da me stesso vabbè da me e da me è tutto ciao